Ciao ragazzi, oggi tutorial fresh, che più fresh non si può, perché oggi andremo a vedere come creare i filtri di Instagram e diventare così super popolari tra i vostri amici, ah che figata, vedi, anche lui è entusiasta. La prima cosa che dobbiamo fare è sicuramente quella di scaricare il programma ARSpark, che è gratuito, sviluppato da Facebook, ma è un po' pesantuccio, attenzione, penso che con i prossimi update verrà migliorato, anche lui dice sì, a posto. Una volta scaricato dal sito, lo andiamo ad aprire e ci troveremo questa interfaccia, questo è un nuovo progetto, potete anche cominciare dei template, cioè dei progetti già fatti, voi andate a sostituire delle cose e magia, avete fatto un super filtro. Noi però, poi vedi pure lui è incredibile. Ora, andiamo a creare un nuovo progetto e ci troveremo in questa situazione. È molto simile a Unity, quindi chi già abbazzica un po' nei programmi di grafica 3D troverà un ambiente quasi familiare, anche diciamo nei comandi. Quindi, andiamo a vedere qua nella scena cosa abbiamo. Le parentele sono come quelle di Unity, quindi noi abbiamo una distanza focale, la telecamera, bla bla bla, l'input del microfono. Quindi abbiamo diverse luci, ma noi le andiamo a disattivare perché non ci servono. Dipende da quello che volete fare voi come effetto, noi andiamo a vedere un po' di comandi di base. Poi possiamo andare a modificare l'input, diciamo, della videocamera per testare il nostro effetto. Possiamo usare la nostra videocamera oppure questi video di queste bellissime persone. Vedi? Noi andremo ad usare questa perché è decisamente il più simpatico. Poi, cosa facciamo? Andiamo ad esempio a fare l'effetto molto interessante della faccia. Ve la faccio vedere. Clicchiamo con destra su focal distance, aggiungiamo una face mesh. Automaticamente verrà aggiunto un tracker per la faccia. Adesso, diciamo, abbiamo la preview di quello che andiamo facendo e possiamo anche modificare il rapporto, diciamo, altezza, base, scegliendo i diversi dispositivi. Chiaramente possiamo usare anche la nostra videocamera. Quindi questa è una mesh a forma di faccia che viene deformata. Con i tracker, motion tracking, possiamo anche togliere gli occhi o la bocca. Vedi? Così diventa un pezzo unico, però non ce ne frega niente. Dopodiché, molto importante, andiamo ad aggiungere un materiale. I materiali si troveranno qua a sinistra sotto assets. Un materiale chiaramente può essere di diverso tipo, ad esempio flat, non riceverà la luce e sarà completamente piatto. Poi ci sono gli standard, i physically based, come su Unity. Però ora io ho disattivato le luci, quindi tutto nero. Poi abbiamo retouching, quindi noi possiamo andare a fare effetto di bellezza, si chiama, su fotocamera, no? Anche full screen o solo sulla faccia. Ma non ci interessa, oggi faremo face paint. Face paint ci aiuta a creare un effetto di tipo pittura facciale, giusto? Questo è il nostro materiale. Possiamo anche rinominarlo, una cosa meravigliosa. Lo chiameremo pippo. Dopodiché, se pippo, andiamo ad aggiungere una texture. La texture basta prenderla e schiaffarla qui dentro. Questa è la texture. Ora vi faccio vedere una cosa interessante. Aprite il vostro programma di grafica 3D preferito e scaricatevi da Google, direttamente dal sito di Facebook, Face Mesh Assets, oppure AR Spark Face Assets, e troverete l'UvMap. L'UvMap vi aiuta perché voi, seguendo questo, questa mappa, ok? Penso di averne parlato anche nei video, poi chi si occupa di grafica sa di cosa sto parlando, però per chi non lo sapesse, queste sono le coordinate dei poligoni, insomma, voi qua disegnate e almeno prendete al 100% la faccia. Ad esempio io, questa è la mia texture. E quindi abbiamo già il nostro bellissimo effetto. Come potete vedere, si deforma a seconda delle espressioni facciali. Però dovete stare molto attenti ad attivare Ace e Bocca, vedete, in questo modo. Molto bene, molto bene. E quindi questo potrebbe già essere un primo effetto. Poi, diciamo che funziona con la teoria di Unity, cioè io posso aggiungere ad esempio un effetto particellare qui, Particle System, e come possiamo vedere, essendo imparentato con la faccia, seguirà la faccia. Io lo posso spostare, chiaramente, però andrà a seguire sempre la faccia, ok? Molto bene. Un'altra cosa divertente che si può fare, sempre seguendo un po' la teoria di Unity, è andare ad aggiungere una cornice. Basterà cliccare Camera Add, Canvas Sotto Canvas aggiungiamo un rettangolo E abbiamo questo Plane, ok? Però noi andiamo a cliccare Size Clicchiamo l'altezza e facciamo Riempi Altezza In questo modo, qualunque sarà la risoluzione del nostro dispositivo, Questa immagine verrà strecciata, quindi allungata, in modo tale che andrà a corrispondere a tutto schermo, ok? Poi aggiungiamo di nuovo un materiale, ne creiamo uno nuovo Questa volta lo chiameremo Franco E stavolta facciamo lo Flat Lo facciamo Flat, aggiungiamo la nostra Texture Cover E quindi abbiamo la nostra bellissima Cover Derby 8 è il mio videogioco e mi raccomando scaricatelo da Google Play Quindi se io, vedi pure lui fa, è incredibile Certo che è incredibile, è il mio Però pure se io vado a prendere un tablet, vedete La cornice si adatterà Quindi, ripeto, si adatterà se voi state in Campana E qui c'è avete Fill With e Fill 8 Poi, apposta, sì Quindi, abbiamo visto varie cose Abbiamo visto le basi È chiaro che se volete approfondire diversi discorsi Ci sono trilioni di tutorial su YouTube Anche lui, vedi Oh, questo mi sta simpatico, sto tizio Bella lì Allora, ci sono un sacco di tutorial su YouTube Ma soprattutto ci sta la guida di Facebook Che è fatta abbastanza bene Quindi, l'ultima cosa che ci rimane da fare È esportare il nostro filtro Andiamo su File Ed Export Ora, piccola nota A pied di pagina Questa è la versione 75 Quindi, suppongo sia la 0.75 Ci sono un po' di errori UC Ad esempio, se io faccio Export Si triggera come poche cose Se io faccio Delete Si triggera come poche cose Se io faccio Save Si triggera Quindi io penso che andranno con i prossimi aggiornamenti a migliorarlo Però funziona tutto Anch'io ho pubblicato qualche filtro E quindi, bomba ragazzi Ci vediamo al prossimo video tutorial Mi raccomando, scaricate il mio videogioco da Arby 8 Da Google Play Oppure comprate i miei asset Dallo store di Unity Cercando Turing Mania Cercando Turing Mania